Ciao a tutti, io sono Manuela Navacci, sono biologa nutrizionista. Oggi vi parlerò del meccanismo dello stress che influenza profondamente il nostro modo di alimentarci. Il meccanismo dello stress è strutturato chimicamente, biochimicamente per quello che siamo realmente, cioè degli individui preistorici e serve per affrontare uno sforzo fisico, quello che si viene definito il meccanismo di lotta o fuggi. Infatti durante un evento stressante vengono reperite dai vari distretti, quindi dal muscolo, dal grasso e dal fegato, sostanze energetiche sotto forma di zuccheri, grassi e proteine per far fronte a un evento fisico, quindi a una lotta, a una lunga corsa e viene anche attivato il sistema immunitario a livello periferico. Questo si traduce in, al momento dello stress, in iperglicemia e piccola perdita di massa muscolare attraverso l'utilizzo appunto degli aminoacidi. Un individuo che abbia un evento stressante che sottintenda da un movimento fisico, questo meccanismo è utile, necessario per avere l'aggressività per sopportare la situazione. Quando invece l'evento stressante è di natura, ad esempio la fila alla posta o la lavata di capo del capo ufficio, oppure una discussione con qualcuno, oppure in questi giorni le cattive notizie che arrivano dai telegiornali, questo si traduce in via repressa, in una frustrazione e non nell'utilizzo delle sostanze che sono state reclutate. Queste sostanze non reclutate verranno riconvogliate nel distretto adiposo, quindi sostanzialmente tutto quello che prima era zuccheri a livello del fegato, aminoacidi e anche grassi verranno riconvertiti in grassi, tipicamente nella zona addominale alta che è la zona in cui il cortisolo, quindi questo ormone dello stress indirizza il grasso. Nelle ore successive allo stress il nostro uomo delle caverne avrà più facilità a ingrassare proprio perché probabilmente magari si trova in un momento di difficoltà, quindi ha necessità di trattenere il più possibile le scorte e poi ha un istinto a mangiare il più possibile proprio per sopperire alla situazione che ha vissuto. Accade la stessa cosa a noi ma noi non abbiamo avuto uno sforzo fisico e quindi non solo tutte quelle energie che abbiamo reclutato sono diventate grassi addominale, ma poi lo stress ci porterà a mangiare in maniera più disordinata e compulsiva. Tipico dopo una giornata in ufficio stressante il fatto magari di trovarsi ancora prima di aver preparato la cena, di aver mangiato in maniera disordinata tutto quello che c'era nel frigo, in questo caso si mangerà non con la fame o con la testa diciamo ma si mangerà con lo stress ed è il momento peggiore anche perché in questo momento si ingrassa in maniera molto molto più 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 rapida. Un consiglio è quello di evitare di sottoporsi a degli stress diciamo tra virgolette gratuiti come quello può accadere in questi giorni in cui arrivano delle notizie continue magari negative dai dg magari cercare di lasciare dei momenti di serenità per evitare questo accumulo continuo di eventi stressanti che tra l'altro non servono a nulla informiamoci ma insomma senza 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 cedere insomma in questo tipo di stress e in generale nella nostra vita quotidiana sapere che questi eventi stressanti creano questo tipo di circolo vizioso ci può aiutare magari a capire che la fame del ritorno dall'ufficio è una fame non fisiologica ma una fame cioè non in realtà non è una fame sana ma una fame nervosa. Cosa fare? Innanzitutto una cosa molto utile sarebbe quella di utilizzare questo meccanismo dello stress. Lo stress ci porta più aggressività e più carica se quella carica la scarichiamo la usiamo per attivarci fisicamente anche poco una ventina minuti di corsetta un una piccola sessione di fitness casalingo un saltando la corda insomma cercando di utilizzare quello che sappiamo essere questa questa quantità di energia che abbiamo nel corpo e questa adrenalina questo cortisolo che abbiamo nel corpo utilizzarlo per per attivarci da una parte ci eviterà gli effetti collaterali di una iperglicemia di di una di un aumento di peso ma aiuterà a gestire poi la fame nervosa dopo perché quelle quella quella aggressività sarà stata scaricata spero di avervi chiarito un pochino i meccanismi che regolano il vostro il vostro umore sappiate sempre comunque la conoscenza ci aiuta a gestirci ci dà la possibilità di avere padronanza di noi e al prossimo